Iniziamo con l'oggetto numero due, realizzazione del nodo di Perugia. Intendimenti della giunta regionale a riguardo interroga il consigliere Fora e risponde l'assessore Melasecchi. Consigliere Fora, prego. Buongiorno a tutti, grazie, ben trovata la giunta. Buongiorno Presidente. L'interrogazione ha come oggetto un tema che si discute ormai da talmente tanti anni che ho perso anche le tracce dei primi anni in cui si è iniziato a discutere, del famoso nodo di Perugia. Così come è evidente quanto la discussione che ormai dura da, ritengo, oltre vent'anni, sia legata a uno dei temi più importanti che riguarda le infrastrutture della nostra regione. Credo che non sfugga a nessun umbro, e non è un tema dei perugini, quanto l'ingolfamento del traffico stradale a Collestrada e nel tratto delle gallerie di Perugia sia uno dei temi su cui la politica si è più confrontata in questi anni e non risolvendo purtroppo uno dei problemi più strutturali. Dai dati in nostro possesso, che sono noti anche alla stampa, a tutta la comunità regionale, ogni giorno in quel tratto circolano oltre 200 mila veicoli, dei quali 14 mila sono mezzi pesanti e in pratica il 50% del traffico regionale e il 45% degli spostamenti dei veicoli pesanti che interessano tutta la viabilità regionale. Sono numeri impressionanti che, peraltro, si traducono anche in grandi disagi e anche in una forte preoccupazione di inquinamento, soprattutto in quelle aree della nostra regione. La interrogazione parte dalla notizia che ha annunciato l'assessore Melasecche che in data 26 novembre ha comunicato il fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha colto, direi finalmente, la richiesta della regione Umbria autorizzando l'ANAS a redigere il progetto definitivo del cosiddetto nodino di Perugia, così è stato ribattezzato, che riguarda cioè il tratto che costituisce parte dell'itenirario nodo di Perugia complessivo e uno dei segmenti che riguardano il progetto complessivo. Io ricordo che l'opera nodo stradale di Perugia fu inclusa già in una prima delibera del Cipetra nel 2001 tra i sistemi stradali e autostradali complessivi che costituiscono una delle infrastrutture di riferimento di tutta l'area del centro Italia per il decongestionamento dell'area urbana di Perugia ma in particolare per favorire anche una maggior facilitazione del trascorrimento dei mezzi pesanti del centro Italia e per questo motivo la riflessione che oggi pongo a quest'Aula e all'assessore Melasecche riguarda in prima battuta l'opportunità di cogliere anche la stagione contingente dei finanziamenti europei per poter affrontare strutturalmente tutto il progetto complessivo nodo di Perugia. La comunicazione attuale fa intuire, di questo chiedo conferma all'assessore che al momento il tratto finanziabile è il nodino e quindi solo uno dei primi tratti, quello di Madonna del Piano, Pila Castel del Piano con le strada, che sicuramente è un primo fattore di decongestionamento ma non risolve strutturalmente i problemi del nodo complessivo quindi ci piacerebbe, vorremmo capire, se questo primo passaggio è funzionale poi a poter valutare complessivamente anche a stralci successivi con il Ministero delle Infrastrutture la realizzazione complessiva del progetto ritenendo che questo non risolva strutturalmente tutti i problemi del traffico urbano ed extraurbano della nostra Regione. La seconda, diciamo così, riflessione è quella legata all'opportunità di aprire un dialogo con le comunità locali in funzione della possibilità che, partendo dal fatto che non viviamo e non possiamo vivere sulle infrastrutture di veti incrociati da parte di singoli pezzi di interessi locali ma sicuramente dell'opportunità, e questo credo sia una responsabilità della politica di avviare una discussione costruttiva e partecipata con le realtà locali gruppi di cittadini, comitati che da anni operano in quel territorio a difesa sia della qualità ambientale ma anche della qualità di vita di chi risiede nei territori interessati dal tracciato, affinché si possa, pur assumendosi la politica e la responsabilità delle scelte, partecipare il più possibile il percorso con quelle comunità individuando, se c'è la possibilità, quali sono le soluzioni meno impattanti per le comunità territoriali, per, diciamo, anche dal punto di vista ambientale che nello stesso tempo però favoriscano tempi certi di realizzazione e soprattutto l'impegno a che complessivamente vengano realizzati anche i futuri stralci. Grazie. Assessore Melasecche, prego. Ringrazio il Consigliere Fora perché il tema non è dei più semplici ma è sicuramente uno dei notevoli e importanti obiettivi che la Giunta intende conseguire. Tutti gli strumenti regionali di pianificazione e programmazione, sia generali che di settore da sempre, si sono posti l'obiettivo di superare la criticità costituita dalla cronica carenza di infrastruttura dell'Umbria, individuando nel miglioramento dell'accessibilità uno dei fattori fondamentali e prioritari per lo sviluppo complessivo della Regione. L'esigenza è di assicurare una maggiore coesione fra i territori interni alla Regione e quelli appartenenti alle Regioni con termini, ha richiesto di puntare ad un potenziamento del telaio delle reti infrastrutturali, in primis per le connessioni lunghe di accesso agli spazi europei e mediterranei. Tra gli interventi, come ricordava il Consigliere Fora, infrastrutturali stratali strategici di preminente interesse nazionali individuati dal Governo con la Regione, legge obiettivo del 2001, sono passati vent'anni, indubbiamente c'era il potenziamento e miglioramento della E45 e il nodo stradale di Perugia nel tratto con le strada Madonna del Piano e Madonna del Piano Corciano. La Giunta attuale si è trovata di fronte, devo dire, ad una rinuncia di fatto, perché il nodo, nel nodino, nel secondo stralcio che va a costituire l'intero nodo, fanno parte del contratto di programma attuale. Per cui, evidentemente, chi ha governato l'Umbria precedentemente, nonostante che la situazione del traffico sia, direi, assurda, io tutte le sere torno a Terni, vedo e sto lì dentro le gallerie, come ieri, dieci minuti, un quarto d'ora, con i pericoli, il consumo di carburante e tutto quello che ne consegue. Quindi, ne abbiamo parlato con la Presidente e con i colleghi, dobbiamo agire. Abbiamo contattato l'ANAS, abbiamo contattato il Ministro e siamo partiti. Abbiamo riscoperto, tirato fuori dai cassetti, il progetto preliminare che era stato donato, lo ricordo, dalla Fondazione Cassa di Spagna di Perugia. Abbiamo contattato l'ANAS, l'ANAS ci ha dato il via, è stato finanziato il progetto complessivo, lo studio di progettazione della Coprogetti di Gubbio, quindi oltretutto Umbri, con i quali ho parlato e ho sollecitato la massima attenzione. In questi giorni sta provvedendo l'ANAS all'aerofotogrammetria per vedere i luoghi, perché dopo dieci anni, dopo quindici anni, può essere accaduto di tutto e di più, per fare i primi sondaggi con le trivelle, per capire i terreni che Natura hanno, per intervenire con i progetti esecutivi in un modo o nell'altro. Quindi l'intenzione è quella di procedere. Ora ricordo che lo stralcio che andiamo a realizzare, quindi il nodino diminutivo, riduce, in base alle rilevazioni dell'ANAS, del 25% il traffico nella tratta che andiamo ad osservare, però in termini di traffico pesante è circa un 30%, cioè il traffico che è di attraversamento è in termini di rapporto tra pesante e leggero e abbastanza di più il pesante. Cosa intendiamo fare? Ho già avuto un incontro con i sindaci di Perugia e di Torgiano. Appena terminate queste operazioni ci confronteremo di nuovo con i sindaci, con le comunità locali. Io chiedo ai Umbri tutti, ai consiglieri di opposizione. Questa non può essere argomento per divisioni politiche. È un'occasione fondamentale, lo stralcio è funzionale. Se noi, come sono certo, riusciremo a far partire quest'opera immediatamente dopo, direi in contemporanea, con il contratto di programma che sta per partire da quest'anno, andremo a porre la nostra attenzione sulla progettazione del secondo stralcio per arrivare al Silvestrini e a Corciano, aumentando la funzionalità e alleggerendo veramente il traffico che oggi sulle gallerie di Perugia rappresenta un problema, un pericolo, inquinamento per la città. Quindi, disponibilità assoluta. Aggiungo, abbinato a questo progetto, c'è anche quello di andare a realizzare un'altra corsia che non risolve il problema definitivamente, lo sappiamo, che arriva fino alla galleria di Volumni, in modo tale da accorciare ulteriormente le code che oggi esistono, sia in salita che in discesa. Vedremo anche questo, di portarla avanti, se possibile, in contemporanea. Da questo punto di vista credo che il lavoro che si sta facendo è estremamente positivo. L'appuntamento è per febbraio. Appena sono terminate queste operazioni tecniche, e chiudo, Presidente, scusi, ci confronteremo. Certo, andremo a tutelare, come ho detto al Sindaco di Perugia di Torgiano, gli interessi generali dell'Umbria. Se ci dovessimo dividere sui dettagli del singolo orto, della singola proprietà, del singolo cittadino, rischiamo di perdere un'occasione fondamentale per la Regione. Grazie. Consigliere Fora. Assessore, sulle infrastrutture strategiche per questa Regione non ci si può dividere e non possono assumere colore politico. Quello che fa la differenza è la tempistica per la realizzazione, e finalmente si parla di tempi, ma abbinato a un livello di partecipazione, di condivisione con pezzi di comunità che hanno investito anche sul piano personale e familiare tanto in quei territori, che non devono costituire vincoli alla realizzazione, ma avere la possibilità di, più possibile, condividere e costruire percorsi che vengano partecipati con il territorio. Quindi accolgo positivamente la sua risposta e il suo lavoro con l'impegno che direi oggi possiamo in qualche forma portarci a casa, che oltre che con i sindaci si possa dialogare con quelle comunità scegliendo le soluzioni meno impattanti e soprattutto che quest'Aula complessivamente si possa far carico insieme con lei di continuare un lavoro con il Governo che preveda la possibilità di avanzare con l'opera a partire dalla terza corsia, alla terza rampa che prima ci accennava, che sono soluzioni ulteriori che decongestionerebbero molto più di questa prima fase complessivamente l'infrastruttura Umbra. Grazie. Oggetto numero 3 interroga il Consigliere Bori. La parola al Consigliere Bori risponde della Presidente Tesei. Pochi giorni fa Angela Merkel, nella chiusura dell'anno, ha detto le seguenti parole. Che è stato un periodo molto difficile, molto duro e il peggio deve ancora venire. Ecco, io sono convinto che ai cittadini e alle persone bisogna parlare in maniera schietta, onesta, trasparente, dire quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato, dove si è sbagliato, dove si è fatto bene e dare un quadro chiaro della situazione che è innegabilmente critica. Siamo in un'emergenza sanitaria che rischia di sfociare in una crisi economica, sociale e culturale. Questo è il quadro in cui ci rivolgiamo. Questo è quello che dicono i grandi leader. Noi invece ci troviamo di fronte a articoli che riportano la conferenza stampa della Giunta regionale che titolano «In un anno abbiamo rimesso in moto l'Umbria». Abbiamo una conferenza stampa di una Giunta regionale che rivendica grandi risultati che però, alla prova dei fatti, non risultano né ai cittadini, né alle imprese, né alle istituzioni. Di fronte a questo, io ho richiamato il fatto che lo Svimez fa la proiezione sul PIL dell'Umbria. Non sarà l'unico indicatore, ma è almeno 11%. Due punti peggiore di quello nazionale, quattro punti peggiore della media europea. Contemporaneamente l'occupazione non cresce, non aumenta la disoccupazione, fortunatamente perché grazie al governo sono bloccate i licenziamenti fino a marzo. Ma l'occupazione è drammatica. Ognuno di noi aumentano per la prima volta in Umbria quest'anno, pagheremo più pensioni che stipendi. Questo è il 2020. Così va rappresentato. L'idea di fare una conferenza stampa lunare, in cui si dice che sta andando tutto bene, siamo formidabili, di fronte ai cittadini, alle aziende, al resto delle realtà istituzionali, ci fa rimanere a bocca aperta e non per uno stupore positivo. Quindi, come è accaduto da poco con le affermazioni rispetto al ricovero di codici bianchi irreale in ospedale, che sono state smentite, noi riteniamo qui oggi di portare un punto di chiarezza, che l'aula del Consiglio regionale sia un momento in cui si confutano le cose non corrispondenti al vero che vengono dette nelle conferenze stampa e che vengono riportate poi nella stampa. Se non sono state le vostre parole, nel caso ce lo direte qui oggi, perché quelli erano i titoli e quelli erano gli articoli, quindi qualcosa è andato storto. E siamo qua per chiedere quali sono gli indicatori e i dati esatti rispetto ai quali si basa questa narrazione prodigiosa dell'azione della Giunta regionale, che mi dispiace ma non viene rilevata da nessuno, né dagli operatori sanitari, né dai cittadini, né dalle aziende. Quindi io credo che sia opportuno che tutti tornino con i piedi per terra. Quindi vorremmo conoscere quali sono i dati e gli indicatori che segnano queste sorti prodigiose segnate da questa Giunta leghista. Grazie. Presidente Tesei, prego. Sì, grazie Presidente. Beh, allora, innanzitutto trovo veramente un grande provo, un grande sconcerto e voglio rispondere personalmente a questa interrogazione. Non solo per quello che ho letto nel testo dell'interrogazione ma anche per quello che ho sentito dalle parole del consigliere Bori in quest'Aula in questo momento. Ora, io ho già visto la vostra polemica social su questa circostanza e questa frase e questa questione, ma veramente pensavo che fosse, come al solito, un comprensibile fenomeno di colore nel dibattito politico. Invece no, è stata fatta anche un'interrogazione. E quindi, per la serietà che contraddistingue me e chi lavora con me, ho chiesto, non perché non ne fossi assolutamente convinta e certa di quello che ho detto in conferenza stampa, ma ho chiesto al mio portavoce una verifica puntuale mediante un riascolto della mia relazione nella conferenza stampa di fine anno e di quella di ogni singolo assessore ed anche una ricognizione puntuale della rassegna stampa. Sulla base di questo, che io credo che avreste potuto e dovuto fare prima di presentare un'interrogazione di questo genere, mi sono resa conto che è difficile rendere conto e argomentare una dichiarazione che non è stata mai fatta, consigliere Bori. Rimessa in moto l'Umbria in un anno è una frase e dirò di più un concetto che non è mai stato né pronunciato né pensato. Perché vede, consigliere Bori, il problema non è e non solo sono i dati attuali della situazione economica della nostra regione, ma sono i dati che già l'Umbria aveva prima dell'emergenza sanitaria, terribili, terrificanti. E nessuno si sarebbe sognato, tantomeno io, di dire che in un anno avevamo rimesso in moto l'Umbria. Perché ho sempre detto che, stante la situazione che abbiamo trovato dell'Umbria ante pandemia, aggravata, come è normale che sia, perché questo è un problema generalizzato di cui l'Umbria non è sicuramente esente, ci volevano almeno cinque anni per cominciare a vedere qualche dato ed elemento positivo, che tra l'altro dovremmo cercare di abbreviare, perché io credo che non ci potremmo nemmeno permettere. Bene. Ora, il fatto che anche oggi... Consigliere, fuori la mascherina per favore, scusi Presidente. Il fatto che anche oggi si insiste su una cosa di questo genere, dicendo tra l'altro e affermando come se la cosa fosse stata detta e sostenuta, quando è un titolo, semplicemente un titolo di un giornale online, perché anche tutta la rassegna stampa della nostra conferenza stampa di fine anno non lo menziona e non dice mai un concetto di questo genere, io credo che è veramente incredibile che ci si faccia un'interrogazione, perché io credo, a parte il fatto che forse sarebbe stato utile per tutti seguire una conferenza stampa, ma laddove questo non fosse accaduto, come in effetti mi pare di capire, almeno andarsela a risentire, perché è tutto registrato. E non c'è non solo questa frase mai detta, ma nemmeno un concetto, un pensiero che potesse avvicinarsi a questo concetto. L'unico riferimento temporale fatto nella mia conferenza stampa di fine anno è quello legato alla ricostruzione, dove è stato detto che in un anno siamo riusciti a snellire le pratiche, liquidarne un gran numero e rimuovere le macerie ferme dalla data del sisma. Su questo tema, e lo ribadisco, in un anno è stato fatto un grandissimo lavoro, a differenza dei tre anni precedenti, ed è stato fatto insieme, l'ho detto anche questo con estrema chiarezza e lealtà istituzionale, insieme al Commissario Legnini. Queste sono le uniche cose che hanno parlato di progressi fatti in questo anno. Ho invece parlato dei precedenti disastrosi dati economici di prospettive, di aver dovuto rispondere all'emergenza concentrandoci su risposte immediate anche per l'economia, pur non perdendo lo sguardo verso il futuro. Abbiamo sottolineato, sì, la ritrovata predisposizione dell'Umbria di tornare a credere di nuovo in se stessa e degli ottimi risultati ottenuti in estate, fotografati e sotto gli occhi di tutti. Parlo del comparto turistico, a meno che non si voglia negare anche questo. Ciò che sorprende e sconcerta, ma forse poi non più di tanto, è che l'opposizione ha basato queste critiche e questa interrogazione, la cosa più grave è questa interrogazione, non su quanto effettivamente detto in conferenza, ma prendendo come fonte primaria il solo titolo di un giornale online, che forse in una eccessiva e forzata semplificazione ha usato una frase, come detto, mai pronunciata e che non viene nemmeno riportata nel testo dell'articolo. Ora, non a caso, tutti gli altri mezzi di stampa, a differenza di quanto ha firmato da lei, consigliere Bori, non riportano quella frase «Se vuole, abbiamo anche la segna stampa, la mettiamo a disposizione». Quindi sarebbe bastato, come ho detto prima, seguire la conferenza stampa istituzionale di fine anno o almeno andarla a rivedere, a risentire, piuttosto che diffondere subito questa campagna, diciamo, sui social, infondata, perché queste cose non le ho mai dette, non le ho mai pensate, né potevo dirle né pensarle, perché i dati purtroppo sono drammatici, come lei ha bene ricordato. Quindi ritengo che anche su questa, diciamo, interrogazione, che secondo me impegna parte dei lavori di un Consiglio regionale in modo anche improprio, perché bastava, come ripeto, informarsi. Oltre a questo non riesco a dire proprio altro, perché se partiamo da questo presupposto che è completamente errato, sbagliato e non rispondente a verità, evidentemente non c'è motivo di aggiungere altro. Per il resto siamo molto consapevoli della situazione dell'Umbria, la stiamo affrontando con grandissima determinazione, perché questa regione ne ha bisogno oggi come ne aveva bisogno ieri. Purtroppo i dati e i numeri sono assolutamente inconfutabili. Grazie. Consigliere Boli per la replica. Grazie Presidente. Ma siamo lieti di sconcertarla come ha lasciato sconcertati noi i contenuti che le ho riportato e che se vuole le rileggo, perché lei dice di aver fatto un'attenta disamina, evidentemente è sfuggito una sua dichiarazione, nel caso è libera di smentirla. Te sei due punti, aperte le virgolette, in un anno abbiamo rimesso in moto l'Umbria. Chiuse le virgolette. Ora, non so come è abituata lei, nel caso in cui a me attribuiscano frasi che non ho mai detto, io smentisco. Questa smentità non è mai arrivata. Quindi lieti di sconcertarla come ha sconcertato noi questa dichiarazione. Lei ha parlato di fenomeno di colore nella politica. Guardi, se portare una richiesta di chiarimenti e di trasparenza su dati che lei oggi non ha fornito, perché io non ho sentito un dato, non li ha forniti, a meno che non siano sfuggiti a me e basta. Le chiediamo chiarimenti, di trasparenza e dati e lei non lo fa. Qui di fenomeni di colore in Umbria ne abbiamo visti tanti, ne abbiamo visti tanti. L'altro giorno un assessore al Comune di Perugia si è vestita da sciamano e ha dichiarato che quello che è non appare legata alla vicenda Trump. Il capogruppo del suo partito, la Lega, al Consiglio Comunale di Orvieto, dichiara che è ora di assaltare il Ministero incitando atti sovversivi. Allora, questi sono fenomeni di colore e non mi sembra che né lei né il suo partito li abbiate mai condannati. Questi sono fenomeni di colore. Chiedere qui, in un'aula, con un'interrogazione legittima, con un'interrogazione ammessa, un chiarimento su una sua dichiarazione virgolettata, in cui afferma, e noi gli abbiamo chiesto oggi i dati e non li ha dati, che di fronte a, che di fronte non si preoccupi, guardi, tra i tanti, allora, di solito, sono solito, come dire, poter esprimere le mie idee che poi può confutare. Ad ogni modo, tornando a noi, visto il passato legato ai dati sul bilancio, io eviterei, no, di giocarla sui numeri. Facciamo così. Tornando sul tema, noi abbiamo portato qui una richiesta di chiarimento e di trasparenza, chiedendo dei dati che lei non ha fornito. Glieli forniamo noi. La situazione legata al PIL è disastrosa, molto più del passato, perché le segnalo che quello che è accaduto in un anno non era accaduto nei precedenti dieci. La situazione dell'occupazione è preoccupante. Se non vogliamo partire da questo, cercando di utilizzare al meglio le risorse governative, le risorse europee, per rigenerare e ricostruire la nostra comunità, mi dica a lei cosa va fatto. Se invece l'obiettivo è fare conferenze stampa triunfalistiche, ne prendiamo atto. Fuori le persone, le aziende, tutti gli altri, hanno tutt'altra opinione e credo che la dimostreranno a breve. Grazie. Oggetto numero 4, interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere Bettarelli. Grazie Presidente. Questa è un'interrogazione su un filone che ormai porto in aula da diverse sedute ed è stata presentata il 30 dicembre 2020 e fa seguito alla situazione che si sta verificando, ovviamente a livello nazionale, ma nella fattispecie nella nostra regione, rispetto al fatto per cui i cacciatori, nella fattispecie parliamo di cinghiale, ma in generale i cacciatori, hanno subito delle forti limitazioni, come avviene ovviamente per tutte le categorie, con una precisazione però, e sarò molto molto rapido, la precisazione è che nel momento in cui la specie cinghiale rimane, tra virgolette, sul territorio, ha la possibilità di proliferare e di aumentare numericamente, aumentano i danni e ci sono varie questioni, sono anche sui quotidiani, sugli online, sulla stampa, sulle tv, immagini di cinghiali a terni, nelle città, in vari luoghi, insomma, e questo ovviamente costituisce in primis un problema rispetto all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, cioè, e in seconda battuta ci siamo anche confrontati in commissione più volte rispetto a quelli che poi saranno, in futuro, breve, i danni causati da fauna selvatica, quindi danni alle colture, danni agli agricoltori, che poi andranno risarciti, quindi c'è il danno e c'è chi questo danno lo deve pagare. Ovviamente, ripeto, ci sono delle limitazioni a livello nazionale, non è che la Regione Umbria fa Repubblica per conto suo, quindi fatte salve quelle limitazioni, questa interrogazione appunto del 30 dicembre chiede sostanzialmente due questioni. La prima, e leggo, è per sapere se non la Giunta, l'assessore, insomma, non ritengo opportuno prendere provvedimenti al fine di allungare il periodo di autorizzazione al prelievo di capi della specie cinghiale fino ad almeno a tutto gennaio 2021, quindi cercare di recuperare alcune date rispetto alla chiusura prevista per metà gennaio. E in seconda battuta, se non ritengo opportuno inoltre, pensare a provvedimenti specifici da attuare nella stagione 2021-2022 volte ad una riduzione dei costi di abilitazione all'attività venatoria, a ristoro dei costi sostenuti dai cacciatori nella stagione attuale a fronte delle forti limitazioni subite. Grazie. Assessore Morroni, prego. Sì, grazie Presidente. Consigliere Bettarelli, il tema naturalmente che lei sollecita con l'interrogazione è un tema verso il quale abbiamo già dedicato e orientato la nostra attenzione. Sul finire dello scorso anno e prima della data di presentazione del suo atto, gli uffici si sono adoperati in tal senso e hanno avanzato di richiesta di parere all'ISPRA, come appunto da normativa vigente, per avere l'avallo riguardo l'allungamento del calendario fino al 31 di gennaio, con riguardo all'attività di prelievo nei confronti della specie cinghiale. Le motivazioni le ha esposte lei, naturalmente non aggiungo nessuna considerazione al riguardo perché l'argomento è stato già ampiamente trattato in tante occasioni, quindi non credo che sia necessario ribadire il perché e il per come tale provvedimento ci sembra auspicabile e necessario. Siamo in attesa di tale parere, come lei ricordava da calendario venatorio già approvato, la caccia al cinghiale cesserebbe domenica 17 e quindi ci auguriamo che il parere intervenga in questi giorni e ci consenta di poter procrastinare il calendario fino al 31 di gennaio. Oltre non è possibile come lei credo ben sa e quindi la formula dell'almeno la invito a riconsiderarla perché non è possibile oggettivamente andare oltre il 31 di gennaio. Per quanto riguarda la seconda questione che lei sottopone, naturalmente a fronte di una situazione eccezionale, qual è quella che abbiamo vissuto in questi mesi e che continueremo a vivere presumibilmente ancora la giunta regionale valuterà, perché anche questo è un tema naturalmente verso il quale abbiamo rivolto attenzione, quali provvedimenti eccezionali mettere in campo per derogare rispetto a quello che è un percorso che prevede determinate dinamiche e determinate responsabilità anche per quanto attiene le squadre dei cinghialisti. Quindi anche questo secondo argomento è la nostra attenzione e naturalmente siamo ben consapevoli che a situazioni eccezionali si risponde con provvedimenti eccezionali e straordinari. Su questo credo che avremo l'occasione per confrontarci nel proseguo. Grazie. Replica consigliere? No. Prego. Veloce, ho usato due minuti perché anche l'assessore è stato molto rapido, quindi sarò velocissimo anche nella replica, dichiarando una forte soddisfazione rispetto alla risposta dell'assessore, molto chiara e per cui è del tutto evidente che la Regione ha chiesto questa proroga e quindi non è ovviamente, la Regione non è l'ISPRA, aspettando l'ISPRA abbiamo la certezza che qualora l'ISPRA dia conferma, la Regione è favoribile alla proroga al 31 gennaio, quindi abbiamo chiesto, quindi siamo fautori di questa richiesta, la Regione è fautrice di questa richiesta, aspetta risposta dall'ISPRA, quindi da questo punto di vista sono molto soddisfatto, così come apprezzo l'impegno dell'assessore e della Giunta, quindi rispetto a valutare, come ha detto l'assessore, una situazione straordinaria, provvedimenti straordinari qualora ci siano. Credo che lei, assessore, in questo, quindi le faccio i miei ringraziamenti e anche per l'approccio che usa, che è quello molto pratico e operativo anche nei tempi e nei modi della risposta. Aspettiamo invece ancora che in Commissione venga la decisione rispetto all'apertura eventuale del 26 dicembre della caccia. Credo che, e chiudo con una battuta, credo che si risponda con i fatti e non con la campagna elettorale permanente ai cacciatori e in generale alla popolazione Umbra.